ed anche la quinta tappa di Miss Modè è andata voglio ringraziare tutte le persone che sono venute questa sera a Massa Lubrense bellissimi questi fiori voglio ringraziare Ciro Brevetto che come sempre organizza cose bellissime voglio ringraziare davvero tutti tutti voi che mi avete sostenuto e adesso me ne vado a letto stanchissima ma davvero soddisfatta non ci sono parole per dire grazie 86 bambini straordinari troppo belli e 40 ragazze altrettanto belle una grande giuria grande musica bellissima location tutto tutto straordinario vi invitiamo per la sesta tappa a Somma Vesuviana in piazza il giorno 18 settembre non mancate